Nell'ultima puntata di Domenica Inn, Sonia Bruganelli ha avuto un intenso colloquio con Mara Venier, dove il tema centrale è stato il suo ex marito, Paolo Bonolis. La conversazione ha messo in luce non solo il rispetto reciproco, ma anche la stima che entrambi continuano a nutrire l'uno per l'altro, nonostante la loro separazione. Bruganelli ha rivelato che la decisione di chiudere il loro matrimonio è stata una sua scelta, ma ha anche sottolineato come Bonolis abbia dimostrato una grande sensibilità, rimanendo al suo fianco anche dopo la rottura. Recentemente Paolo Bonolis è stato avvistato in un locale di Roma, Sublime la Villa, dove ha incontrato Titi Schall, ex concorrente di Temptation Island. La giovane che ha vissuto una rottura drammatica con il suo fidanzato Antonio Maietta ha condiviso sui social una foto insieme al conduttore, scatenando l'interesse del pubblico e dei media. Selvaggia Lucarelli ha commentato l'episodio con ironia, suggerendo che la situazione fosse quasi surreale. Questo incontro ha sollevato interrogativi su un possibile legame tra i due, ma sembra più probabile che si tratti di un incontro casuale. Dopo la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Nonostante le speculazioni, non ci sono state conferme di nuove relazioni. La riservatezza del conduttore è nota e la sua vita personale è sempre stata un argomento di grande interesse per i fan. Mentre Sonia Bruganelli ha iniziato una nuova relazione con il danzatore Angelo Madonia, Bonolis sembra preferire la solitudine, dedicandosi al lavoro e ai suoi progetti televisivi. La situazione attuale di entrambi suggerisce che, sebbene le loro strade si siano separate, il rispetto e la stima reciproca continuano.